La nuova ascensione nella stratosfera è prossima. Essa non deve preoccupare affatto, specialmente in questa occasione, il protagonista del nuovo tentativo, Max Cottings, che come si vede è seduto nella navitella in abito da passeggio per essere forse intonata la passeggiata che questa fa per ora sopra un carro. Grazie.